Voglio vivere così Iniziamo la nostra passeggiata per il rione Sant'Angelo Ci sono tantissime leggende rispetto a questo posto, è vero Adriano? Sì, perché la zona è quella che viene identificata dal mito come quella in cui si arena la cesta con i due gemelli Remo e Romolo che poi vengono accuditi dalla lupa è la zona del Velabro, leggermente più a sud rispetto alla zona del rione Sant'Angelo ma comunque è proprio adiacente a questo rione La cosa interessante del rione, qualcuno potrebbe essere fuorviato dal nome perché con Sant'Angelo pensiamo ovviamente a Castel Sant'Angelo e quindi in una zona di Roma molto più a nord invece prende il nome rione da una piccolissima chiesa che è quella di Sant'Angelo in Pescheria che si chiamava precedentemente in una maniera un po' meno nobile cioè si chiamava Sant'Angelo Pescivendolo perché i romani come sappiamo erano sempre molto coloriti nel dare il nome ai loro luoghi perché? Perché lì si trovava il mercato del pesce che era nato in epoca medievale quindi chiaramente ecco da dove proviene il nome di questa chiesa Sant'Angelo in Pescheria e quindi anche il nome del rione è il più piccolo dei rioni di Roma ma nonostante tutto fino alla fine dell'Ottocento era una delle zone di Roma più popolate oggi la situazione del centro di Roma è completamente diversa da un punto di vista abitativo non solo per il rione Sant'Angelo perché comunque ci sono sicuramente molti più negozi uffici di persone che ormai ci abitano però all'epoca il motivo per cui c'era questa grande quantità di persone che abitavano nella zona era che lì si trovava appunto il ghetto ebraico di cui poi parleremo dopo a proposito del portico d'Ottavia e la densità abitativa all'interno del ghetto era enorme perché gli ebrei erano obbligati a vivere all'interno di quella zona e quindi erano stipati letteralmente in un'area piuttosto limitata l'area compresa in effetti tra il Tevere quindi il Campidoglio perché poi il Campidoglio è subito alle spalle di questo nostro rione ci si affaccia dalla parte del Teatro Marcello e l'Aventino che invece chiude più a sud è appunto sicuramente la zona che ha visto i primi insediamenti abitativi di Roma perché c'era anche un motivo pratico al di là del mito che abbiamo visto di Romolo e Remo cioè il fatto che in quella zona c'era l'Isola Tiberina l'Isola Tiberina permetteva quindi in quel punto un passaggio del Tevere quindi elemento di barriera naturale fra il nord e il sud della penisola da parte delle persone che quindi riuscivano a guadarlo in qualche modo successivamente nel I secolo a.C. vengono costruiti ponti Cestio e Fabricio che quindi uniscono alla riva sinistra e destra del Tevere l'Isola e quindi permettono il passaggio ricordiamoci sempre che quando parliamo di sinistra e destra del Tevere intendiamo come se lo percorressimo nel senso stesso di deflusso delle acque, diciamo di scorrimento delle acque quindi siamo sulla riva sinistra del Tevere in questo caso nella parte del rione Pigna e del rione Sant'Angelo durante poi l'impero la zona venne chiamata Circo Flaminio era chiamata Circo Flaminio perché c'era un circo che era il secondo circo di Roma in ordine di grandezza addirittura costruito nel III secolo a.C. quindi antichissimo di questo non andiamo a cercarne traccia perché non esistono non esiste assolutamente nulla mi chiedevi prima qual è la differenza fra circo e stadio sì le mie domande da profana come sempre no no non sono domande da profana allora nel circo avevamo le corse dei cavalli una sorta di ipodromo era una sorta di ipodromo era più o meno a forma sempre ovale allungata ma con un lato tagliato quindi in orizzontale quel lato era il lato da cui partivano appunto i carri al centro c'era una spina una divisione che permetteva quindi il giro in tondo dei carri lo stadio come lo stadio di Omiziano quindi piazza Navona tanto per fare un esempio era invece un luogo dove avvenivano delle gare che potevano essere gare di lotta o qualsiasi altro evento sportivo quindi questa è la differenza c'è una differenza anche con il Colosseo perché c'era un'altra forma il Colosseo viene considerato un anfiteatro perché viene considerato è un anfiteatro perché vuol dire che è un teatro doppio se tu prendi in effetti due teatri quindi come il teatro di Marcello e li unisci insieme e li metti insieme a chiudere a formare un cerchio ecco che hai un anfiteatro quindi è come se fosse un doppio teatro all'interno del quale avvenivano appunto i famosi giochi gladiatori o comunque altri eventi addirittura anche naumachie in alcuni di questi anfiteatri anche se poi le naumachie si svolgevano anche negli stadi l'area quindi intorno al Circo Flaminio siccome sorgeva vicino al Campidoglio e al Foro Romano anche divenne sicuramente un centro monumentale di Roma questo fu Augusto che stabilì di farlo diventare un luogo molto importante e quindi c'erano molti edifici proprio dedicati a rappresentazioni teatrali come il teatro di Marcello e quello di Balbo poco vicino c'era anche il teatro di Pompeo però andiamo fuori fuori Rione quindi poi lo affronteremo in uno dei prossimi Rioni fuori dal confine esatto e poi c'era un altro edificio importantissimo che era la Porticus Minucia perché la Porticus? perché Porticus queste sono le mie reminiscenze di liceo classico quarta declinazione femminile quindi in realtà noi oggi diciamo il Portico ma per i Romani Porticus era femminile invece e quindi la Porticus Minucia era il posto dove avveniva la distribuzione gratuita del grano ai Romani il discorso famoso del panemet circenses a cui gli veniva dato era praticamente voleva dire che il popolo romano sarebbe stato tranquillo se avesse avuto il pane e quindi il grano in questo caso e dei giochi e i giochi ce n'erano ce n'erano in abbondanza appunto nei vari anfiteatri circhi, stati che abbiamo visto e quindi in effetti della Porticus Minucia rimane poco non nel nostro Rione esattamente perché è dall'altra parte di Via delle Bottego Scure rispetto alla zona del nostro Rione però se entreremo come adesso poi faremo nella Cripta Balbi nel museo della Cripta Balbi di fronte proprio all'ingresso della Cripta Balbi vedremo queste due grandi colonne che partono sempre dal livello inferiore rispetto alla strada e quello è tutto quello che rimane della Porticus Minuci è molto affascinante sempre questo aspetto secondo il quale noi camminiamo a livello superiore rispetto a quella che è invece la base reale di alcuni alimenti architettonici che noi vediamo intorno a noi esatto in alcuni casi addirittura le direttrici principali di alcune state rimangono che sono le stesse in altri casi vengono stravolte in alcuni casi l'uso degli spazi rimane lo stesso in altri casi viene stravolto per il centro di Roma quasi tutto è stato stravolto perché ovviamente dobbiamo immaginare il centro dell'antica Roma come una grande area monumentale per la maggior parte c'erano tantissimi edifici importanti nella zona centrale oggi chiaramente invece abbiamo palazzi che per la maggior parte ormai hanno tombato per sempre la possibilità di riuscire a ritrovare questi monumenti senti nel corso degli secoli poi il rione Sant'Angelo ha subito degli sviluppi rispetto al suo alla sua come ci appare oggi ecco diciamo sì è appunto è quello che stavo un po' dicendo al di là del circo il famino che fu smantellato da Augusto proprio per creare quest'area monumentale ovviamente nel medioevo anche se c'è un periodo di abbandono ma poi comunque vengono realizzate nella zona tantissimi edifici anche di famiglie molto importanti e molto influenti quindi i Caetani i Mattei i Fabbi poi queste cose le ritroviamo nel nome dei palazzi della zona e l'evento poi che ha modificato profondamente il tessuto urbano perché questi sono stati eventi che sono avvenuti nei secoli quindi sono stati molto lenti invece quello che ha modificato fortemente il tessuto urbano sono stati gli interventi fatti durante il periodo del regime fascista infatti nel 26 tutto il quartiere intorno al teatro Marcello viene demolito per creare quella che era la via Ostienze la via del mare perché la via Ostienze partiva da sotto il Campidoglio da sotto l'escalina del Campidoglio e quindi questa grande strada che noi oggi utilizziamo molto spesso appunto proprio perché ci porta naturalmente in centro e oggi ci porta ancora di più con la chiusura di via dei fori imperiali perché è praticamente obbligato il passaggio da quella parte per arrivare a Piazza Venezia fu oggetto di un enorme sventramento e quindi lì dobbiamo immaginare una serie di case accadastrate l'una sull'altra che si erano create nei secoli e però questo ci permette oggi di vedere il teatro Marcello nella sua bellezza completa e così fu anche l'intervento fatto lungo via delle botteghe oscure che era invece una strada molto stretta con delle botteghe dei piccoli negozietti che erano appunto oscuri perché la strada era piccola e quindi poca luce filtrava e arrivava all'interno della strada e nel corso della puntata continueremo a raccontare tutti questi particolari noi ci fermiamo per un istante e poi torniamo qui su Radio Yes voglio vivere così allora stiamo per entrare all'interno di una zona ben precisa sto parlando della cripta Balbi che ha delle caratteristiche molto particolari e tu adesso Adriano ce le racconterai per bene sì allora appunto la nostra passeggiata virtuale come dicevamo prima parte da Torre Argentina che è fuori dall'area del Rione e quindi parte da nord e da nord scendiamo verso sud percorriamo via delle botteghe oscure a sinistra vediamo appunto i resti della Porti Cosminucia queste due colonne e ci infiliamo nel Museo Nazionale del Cripta Balbi è un luogo forse unico per comprendere appieno quel patrimonio incredibile che abbiamo e che si nasconde sotto i nostri piedi e che sarebbe visibile solamente portando via tutti i palazzi moderni ovviamente moderni poi sempre palazzi magari del Cinquecento del Seicento operazione che ovviamente è impossibile perché questo luogo è così particolare? perché negli anni quaranta del Novecento si decise di demolire un palazzo del Cinquecento cosa che oggi probabilmente non si farebbe non sarebbe proprio possibile fare all'epoca invece sì e quindi si isolò un isolato un isolato fu completamente demolito con l'idea di costruirne una nuova in effetti c'era come dire un'idea di speculazione edilizia però siccome da lì a poco scoppiò poi la seconda guerra mondiale il progetto venne completamente accantonato per fortuna alla fine della guerra la mentalità era cambiata i vincoli arcologici non permisero assolutamente di realizzare questo nuovo edificio e quindi si aprì la possibilità per una straordinaria operazione di scavo e di studio dell'ambiente la cosa andò molto per le lunghe è stata una zona che è rimasta per anni abbandonata negli anni ottanta il professor Manacorda per venti anni a partire dagli anni ottanta ha condotto gli scavi dell'area portando alla luce una serie di strutture incredibili che stratificate ci permettono di andare un po' indietro nel tempo andando indietro nel tempo parliamo del perché di cripta noi pensiamo come cripta un luogo sotterraneo di una chiesa oggi in effetti nell'antica Roma cripta era tutt'altro cioè era un luogo che si trovava dietro a un a un teatro nel quale porticato di solito con un giardino nel quale le persone camminavano passavano un po' il tempo fra uno spettacolo e l'altro o prima o dopo di uno spettacolo c'erano anche probabilmente dei negozi dei negozietti dove si poteva comunque prendere qualcosa da mangiare riposarsi un attimo come mai si chiama cripta balbi si chiama cripta perché appunto era il nome in cui i latini identificavano questo portico era proprio e balbi balbi perché era balbo che decise di realizzare quest'opera la cosa particolare adesso appunto vedremo anche in che periodo il personaggio era lucio cornelio balbo e questo avvenne nel 13 avanti cristo quindi sotto augusto era caratteristica dell'epoca che le persone molto ricche realizzassero degli edifici importanti era un loro dono alla città era un modo anche per farsi come dire rispettare ancora di più per farsi conoscere e per confermare la loro ricchezza e la loro importanza nell'ambito e nella struttura sociale della città e questo accade anche con con il il teatro di balbo perché era un teatro quindi il teatro di balbo che era il terzo per grandezza nella Roma Antica dopo il teatro di Pompone e Marcello tutti nella zona era proprio una zona come abbiamo detto prima appunto che Augusto finalizzò a questo scopo e all'epoca i romani amavano molto ovviamente andare a teatro e chiaramente era un po' come andare voglio dire noi oggi abbiamo il teatro e il cinema all'epoca c'era solo il teatro quindi c'erano rappresentazioni che arrivavano un po' da tutto il mondo conosciuto dell'epoca soprattutto anche quello greco ed era anche comunque uno stadio importante nelle dimensioni erano quasi 8000 persone che potevano essere ospitate all'interno del teatro ed era fra l'altro lussosamente decorato anche qui è sempre il solito discorso lo realizzo io realizzo quel teatro voglio che sia più bello degli altri voglio che sia più ricco e più decorato ecco che qui esistevano all'interno di questo teatro delle colonne dionici quindi una pietra molto molto pregiata appunto poste da babbo nel teatro che erano particolarmente famose ed erano particolarmente apprezzato quando diciamo all'interno dell'area porticata c'era un'esedra semicircolare che stava quindi contrapposta al teatro e al giardino che c'era al centro che ospitava probabilmente delle sculture c'era una pavimentazione in mosaico e anche dei giochi d'acqua quindi era un luogo veramente ricco dove si vedeva proprio l'opulenza la ricchezza della persona che l'aveva realizzata fu poi trasformata questa è una cosa abbastanza particolare nel secondo secolo in una enorme latrina già c'erano anche queste esigenze che correva lungo tutto il perimetro del porticato che era destinato agli spettatori del teatro probabilmente siccome poi c'era appunto la porticus minucia quindi questo luogo dove c'è la distribuzione gratuita del frumento non è da escludere che l'utilizzo della latrina fu anche concesso ai normali passanti lungo quella che oggi è la via delle portiche oscure perché le nicchie non avendo al loro interno delle statue perché ancora non ce le avevano messe gli hanno dato l'idea di creare questa sorta di toilette non so se adesso è per questo è proprio esattamente per questo però insomma interpretiamo i romani utilizzato in questo modo e ancora oggi stranamente nonostante i secoli nonostante tutto quello che accadde alla zona la copertura marmorea in parte in piccolissima parte è ancora rimasta e quindi si vedono queste classiche aperture di quelle che erano appunto le latrine che ricordiamo erano un luogo anche di socializzazione cioè all'interno di una latrina che non aveva divisione appunto fra un cubicolo e l'altro c'era questa lasta di marmo con tutte delle aperture le persone si sedevano normalmente lì per espedare loro bisogni e chiacchieravano amabilmente esatto quindi questo è il discorso ora la cosa interessante è che con questi scavi noi vediamo la continuità d'uso che c'è stata durante i secoli di quest'area che comunque è vero che è stata comunque abbandonata perché chiaramente è stata abbandonata durante probabilmente il quinto secolo ma fu utilizzata prima ovviamente nel momento proprio della caduta di Roma perché appunto siamo quinto secolo viene utilizzata come luogo per buttare rifiuti e per delle sepolture poi vengono costruite delle chiese perché chiaramente inizia il cristianesimo quindi esistono delle chiese che vengono realizzate sopra questa struttura poi una parte viene adibita a Calcara la Calcara era praticamente stato uno strumento di distruzione della maggior parte delle opere marmore di Roma perché lì si andavano si andavano a buttare statue o pezzi di marmo che venivano sottoposte ad altissima temperatura quindi sbriciolando si creavano calce e quindi purtroppo centinaia se non migliaia di statue che adornavano Roma di marmo hanno fatto questa fine beh forse sì non siamo mai stati dei modelli nel valorizzare le nostre ricchezze beh all'epoca c'era proprio veramente una tendenza alla distruzione folle poi con il Medioevo su questa struttura si addossarono delle case medievali fu costruita la chiesa di Santa Catarina della Rosa che sorge su una chiesa più antica che era Santa Maria Domine Rose e poi all'interno e con ovviamente anche dei monasteri che erano annessi alla chiesa e oggi andando in quello che è uno dei quattro musei del polo museale statale statale quindi del che quindi poi gli altri sono Palazzo Massimo e adesso me li sono persi ma comunque Palazzo Altems e le terme di Diocleziano giustamente vedi che sei più preparata di me e no non diciamo fesserie questo è sicuramente un il più recente tra questi quattro e ci sono tantissimi reperti di uso quotidiano che sono usciti fuori proprio da questo scavo quindi durante lo scavo anche tra l'altro con delle bellissime ricostruzioni grafiche che sono presenti all'interno con questo scavo si è veramente riusciti a ripercorrere duemila anni di storia di Roma in quel punto e quindi troviamo oggetti antichi romani ovviamente ma poi ne troviamo anche medievali rinascimentali e quindi veramente riusciamo a ripercorrere un periodo lunghissimo quasi tutti gli oggetti vengono in effetti proprio dalla zona stessa della realtà Balbi quindi è un museo realizzato su quella che era la zona dove sono stati trovati tutti questi oggetti fra l'altro il museo stesso è un museo come dire il contenitore stesso è un museo perché ci sono antiche strutture che sono state appunto riutilizzate e riadattate ad aree espositive molto bene noi adesso ci fermiamo per qualche minuto poi torniamo su Radio Yes con Voglio Vivere Così per parlare di un altro sito molto molto interessante sto parlando del portico di Ottavia quindi state con noi Voglio Vivere Così Torniamo su Radio Yes state ascoltando Voglio Vivere Così e noi adesso parliamo del portico di Ottavia che era costituito proprio da un recinto porticato ma descrivicelo meglio Adriano allora penso che tutti abbiamo chiaro la via del portico d'Ottavia quindi quella che caratterizza il ghetto che cosa troviamo troviamo intanto la chiesa di Sant'Angelo in Pescheria che è quella che appunto dà poi il nome al quartiere all'alrione e poi vediamo una struttura che in effetti si appoggia subito di fronte alla chiesa stessa e una serie di colonne che come dire caratterizzano questa strada dove abbiamo forse fra i più famosi ristoranti di cucina giudea a Roma quindi di cucina romana giudea ecco che cos'era questo luogo era in effetti un appunto recinto porticato che circondava dei templi quindi immaginiamo un grosso recinto porticato quadrato al cui interno c'erano dei templi e come nascono in effetti nascono con diciamo già del 179 a.C. quando un censore che era Marco Emilio Lepido decide di realizzare un primo tempio che è quello di Giunone Regina successivamente uno dei Metelli della famiglia dei Metelli quindi ricordiamoci di Cecilia Metella lungo la Piantica di cui abbiamo anche parlato in una delle puntate precedenti dopo aver celebrato un trionfo sulla Macedonia quindi su un popolo macedone fece erigere un altro tempio vicino al tempio di Giunone in questo caso dedicato a Giove Statore quindi Giove e Giunone che cosa succede che il tempio fu in effetti il primo edificio sacro costituito interamente in marmo a Roma quindi doveva essere un edificio molto bello e molto importante molto costoso sicuramente ma ritorniamo sempre al discorso di prima io torno da una battaglia da un trionfo da una guerra porto con me tutti i tesori sottratti e nemici una parte di questi tesori li regalo in qualche modo alla cittadinanza alla città realizzando un'opera particolare fra l'altro approfittandone e ringraziando gli dei costruendo due piccioni con una fava come si suol dire esatto quindi alla costruzione sono questa è una cosa divertente legati i nomi di Saura e Batraco che erano probabilmente gli scultori incaricati della sua decorazione che avrebbero e questo ce lo raccontano ovviamente le fonti antiche lasciate come firma la rappresentazione di una lucertola che appunto in latino era Saurus e di una rana che era Batracus eccolo che la loro firma senza però scriverla la lasciarono sul monumento molto carina questa cosa contemporaneamente venne però anche ricostruito il tempio di Giunone che nel frattempo hanno passato un po' di anni e quindi dovevano essere rimessi un po' a posto e vennero inseriti nel portico di Metello perché fu Metello che realizzò appunto il tempio di Giove quindi questo recinto di portici su quattro lati ornato da opere d'arte come al solito opere d'arte greche in questo caso sottratte diciamo alla Grecia tra queste era celebre quella che venia chiamata la Turma Alexandri cioè erano 24 statue equeste dei compagni di Alessandro Magno che ovviamente erano stati portati asportati come bottini di guerra in Macedonia e che erano opera di Risippo addirittura e di tutto questo non rimane nulla vi era inoltre esposta anche la statua di Cornelia che era la madre dei Gracchi e questa una particolarità fu la prima statua di una donna realizzata a Roma quindi una cosa abbastanza particolare il Circo Flaminio che era appunto proprio lì nella zona perché appunto prima della sua distruzione da parte di Augusto era già sede di molti templi che erano edificati sempre dai trionfatori a scopo di autocelebrazione e di ringraziamento degli dei però in questo caso è sicuramente il primo esempio di templi racchiusi da lussuosi portici che permettevano alla gente di camminare e di fare anche ovviamente degli scambi commerciali eventualmente quindi era un luogo comunque di incontro e chiaramente c'era dietro un'opera propagandistica dell'operazione chiaro quindi e tutto questo viene poi rifatto anche nei fori imperiali nei fori imperiali ogni imperatore vuole lasciare il segno della sua grandezza con il suo foro e oggi vediamo abbastanza poco del come dire di tutta questa di questa struttura perché sicuramente del tempio non vediamo nulla se non qualche fortunato come Carlo Pavia che abbiamo intervistato qualche volta qualche puntata fa che negli anni 70-80 si infilò in tutte le case della zona del ghetto e vide in effetti alcuni resti di queste colonne ormai i templi sono completamente inglobati nelle case della zona e quindi ne rimangono resti appunto all'interno degli edifici o nei sotterranei di questi edifici ma non sono ovviamente visibili certo chiaro mentre invece appunto di questo grande porticato rimane in effetti quello che vediamo cioè questa parte esterna che oggi compone il portico d'Ottavia all'interno del portico utilizzando una parte del portico nel 700 viene realizzata la chiesa appunto di Sant'Angelo in pescheria dentro quelli che vengono chiamati i propilei i propilei erano appunto questi corridoi che si trovavano al di fuori poi dell'area dove c'erano i templi durante il medioevo aveva un ruolo ben preciso il propileo me lo spieghi tu certo perché ha ospitato proprio questo di cui stiamo parlando cioè il tempio di Giunone Regina ci stiamo spostando leggermente ha ospitato il mercato del pesce di cui abbiamo parlato all'inizio avevamo citato un po' più o meno quello di cui avremmo parlato successivamente esatto solo successivamente appunto nel nel medioevo qui la zona poi fra l'altro si prestava perché non l'abbiamo detto nella nostra introduzione ma qui ci troviamo nella zona dove c'era il foro boario che era il mercato della carne e il foro olitorio che era il mercato della frutta e della verdura forse seguendo in qualche modo un utilizzo nei secoli ecco che qui nasce il foro piscario cosiddetto che appunto era il foro dove veniva come dire contrattato e venduto il pesce una cosa particolare è quello che c'è una lapide in cui c'è un'iscrizione che dice le teste dei pesci più lunghi di questa lapide pinne comprese devono essere date ai conservatori era in qualche modo un come dire un balsello che si doveva pagare ai conservatori per cui certe determinate parti del pesce devono comunque essere dati a questi personaggi poi fu spostato dal portico d'Ottale a piazza santeodoro in effetti in tempi recentissimi cioè dopo un'unità d'Italia circa nel 1885 e pensa quindi per quanti anni dal medioevo per quanti secoli ebbe questo compito va bene andando avanti lungo la nostra passeggiata che cosa possiamo raccontare ai nostri ascoltatori ma diciamo che qui la chiesa è sicuramente vale la pena vederla e vale la pena anche passare e così andremo poi al successivo edificio che andremo a vedere che è il Teatro Marcello passare proprio all'interno dell'area archeologica che è normalmente aperta è una passeggiata che si fa è gratuita perché non è che si paga nessun biglietto proprio da di fronte alla chiesa di Sant'Angelo in Pescheglia ci sono delle scale che permettono di scendere all'altezza del Teatro Marcello e quindi da lì camminare e sbucare su via del Teatro Marcello proprio al di sotto del Campidoglio è come dire un bel taglio ma è un taglio che si riesce a fare in una zona piacevolissima dove è veramente una passeggiata che ci manda indietro di secoli alla nostra Roma appunto del periodo imperiale ok io direi che possiamo passare al prossimo argomento vogliamo soffermarci ancora un po' ma io direi che l'argomento del Portico d'Ottavia è con questo esaurito è sempre con il nostro modo come dire veloce e non troppo pesante di fare questa trasmissione di impostarla e quindi possiamo poi parlare del Teatro Marcello va bene allora diciamo a tutti gli ascoltatori di restare con noi perché stiamo per entrare nel Teatro Marcello assolutamente sì voglio vivere così come promesso entriamo nel Teatro Marcello che è una struttura che risale a moltissimi moltissimi anni fa addirittura voluta da Cesare quindi insomma importante quindi noi abbiamo lasciato il Portico d'Ottavia passiamo di fianco a quelle che sono i resti del Tempio di Apollo Susiano quelle due colonne di fronte al Trato di Marcello e ci troviamo di fronte a questa facciata incredibile di questo teatro che appunto fu voluta direttamente da Giulio Cesare fu promossa da Giulio Cesare in effetti fu terminata da Augusto appunto perché Giulio Cesare morì prima e dedicò l'edificio a Marcello chi era Marcello era suo nipote era il figlio della sorella Ottavia che poi che lui pensava sarebbe stato il suo successore poi purtroppo Marcello muore durante una campagna di conquista e quindi non ha avuto la possibilità il teatro era capace di 14.000 persone quindi era un teatro molto molto più grande di Giulio Di Balbo praticamente il doppio e aveva una facciata esterna composta da 41 arcate sono quelle che vediamo ancora oggi la cosa particolare è che poi a un certo punto divenne una rocca di difesa cioè nel medioevo e poi nel rinascimento si pensa di strutturare al di sopra del teatro e su quella che era la cavea che quindi era dall'altra parte sulle gradinate e sul del del teatro degli edifici che hanno quindi una posizione ovviamente predominante e di controllo e qui si susseguono tutta una serie di famiglie nobili dell'epoca della Roma di quel periodo e quindi Pierleoni Savelli e poi gli Orsini una cosa particolare è che in effetti esistono in qualche modo dei sotterranei cioè ovviamente il teatro Marcello è a un livello più basso rispetto alla strada attuale di dire il teatro Marcello e fino a quelli che furono poi appunto gli sventramenti del periodo fascista in effetti le arcate del piano terra che vediamo si vedevano solamente a metà perché il resto era interrato quindi furono svuotate e la cosa particolare è che all'interno di questi lunghi ambulacri corridoi interni che quindi davano accesso al teatro ci sono ce ne sono due in particolari che hanno delle volte decorate con degli stucchi splendidi perché solamente quelle due si è capito che probabilmente quella era un po' l'ingresso come dire di rappresentanza da cui entravano le persone più nobili che avevano accesso al teatro e quindi erano state decorate in maniera particolare infatti tutte le altre gallerie che permettono di accedere al teatro non hanno questi stucchi molto belli quindi fra l'altro esistono delle visite guidate che vengono promosse nella zona del teatro Marcello e quindi c'è la possibilità di vedere proprio queste gallerie è la cosa più particolare che abbiamo nel teatro proseguendo la nostra la nostra visita scendiamo sempre più verso diciamo verso sud e a pochissima distanza in effetti troviamo la chiesa di San Nicola in carcere che si trova all'angolo di via il teatro Marcello con poi l'inizio di via Pietroselli e Vico Iugario e la chiesa si vede già guardandola da fuori che ha qualche cosa come dire di molto antico perché si vedono sulle facciate della chiesa delle colonne queste colonne sono le colonne di tre templi quindi sono chiamati i tre templi del foro olitorio quindi era la zona del mercato della frutta e della verdura ed erano costruiti molto molto vicini l'uno all'altro praticamente quasi attaccati ed erano dedicati uno alla speranza uno a Giunione sospita cioè Giunione salvatrice e l'altra a Giano costruite in epoche diverse ma insomma tra il 250 e il 150 avanti Cristo in momenti diversi però aveva una particolarità erano tutti assolutamente allineati su un fronte unico e e quindi la chiesa che poi si è installata sul su questi tre templi ha utilizzato le facciate esterne dei due templi più diciamo ai lati e ha utilizzato completamente il tempio centrale per installarsi proprio al di sopra di questo oggi è possibile scendere all'interno dei sotterranei della chiesa e quindi osservare che cosa solamente il podio in effetti del 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 dei templi perché del resto non rimane nulla anche se appunto le colonne sono comunque visibili nei muri perimetrali esterni della chiesa quindi anche semplicemente passeggiandoci intorno potremo già apprezzare e capire il perché di questo non sono colonne spostate e utilizzate sono colonne che si trovavano in quel punto quindi fu come dire tratto vantaggio si trasse vantaggio da quelle che erano delle strutture già preesistenti quindi nei sotterranei possiamo in qualche modo ripercorrere quegli stretti vicoli che separavano i tre templi quello conservato meglio è la base del tempio di Giunone che era caratterizzato da alcuni piccoli ambienti coperti a volta che si sviluppavano lungo gli assi maggiori del tempio questi piccoli vani in effetti al momento della scoperta alimentarono la leggenda di un carcere ecco perché San Nicola è in carcere questo è il nome e dovevano invece essere utilizzati probabilmente come uffici di cambiavalute che operavano in quella zona proprio perché lì c'erano tantissimi commercianti che erano abituali frequentatori del foro di Torio quindi dei tempi del foro perché ricordiamoci sempre che i templi avevano proprio una funzione anche legata molto spesso ai viaggi al commercio quindi e comunque agli scambi commerciali c'era come dire una divinità per tutto ecco che lo ricordavamo la scorsa volta anche in una zona di commercio di attività dove forse un luogo di preghiera sembra essere strano invece avevano comunque il loro motivo di essere ma anche forse la densità della popolazione in quel luogo visto che c'erano sicuramente un luogo frequentatissimo esatto sicuramente ora il quindi scendendo noi riusciamo a osservare ancora i grandi blocchi del podio del santuario e poi in effetti solamente nell'ottavo secolo il papa Adriano fece ricostruire dentro la struttura di questa di quella che appunto era poi divenne la nona e quindi questo luogo anche di distribuzione di prodotti una struttura religiosa e la chiesa che incorporò completamente la struttura e il colonnato è divisa in tre navate e che poi è stata ovviamente abbellita da splendide decorazioni ma insomma di solito quando andiamo in una chiesa romana non cadiamo mai male ecco questo è sicuro assolutamente vero quindi vale la pena riuscire a andare e passeggiare in questa zona potremmo dare un'occhiata ma ne parleremo poi in un successivo in una successiva puntata a quella che è forse anche se è conosciuto da pochi questa cosa l'area archeologica più antica di Roma che è quella dell'area sacra di Sant'Omobono che si trova esattamente dalla parte opposta della strada a via Petroselli vicino agli uffici del comune c'è una zona archeologica importantissima perché qui è stato trovato quello che probabilmente è stato uno dei primi templi realizzati a Roma quindi questa è stata ovviamente una visita come dire molto veloce abbiamo saltato tantissimi monumenti che sono nella zona il tempo è quello che è un po' tiranno e quindi ci obbliga a fare queste scelte che ovviamente ci portano a tagliare fuori degli edifici che sarebbero molto importanti ma questo è per tutto il resto c'è Roma Sotterranea con le visite che organizza nel weekend ci sono anche comunque delle ottime guide e mi permetto in questo caso di consigliare una che è una pietra miliare come guide archeologiche che è la Roma di Filippo Carelli che è proprio un testo che insomma veramente quasi tutti dovrebbero avere perché si legge fra l'altro diviso per vari capitoli e per vari monumenti quindi si legge in maniera molto godibile ed è veramente un testo che comunque anche approfondisce nel giusto tutti i singoli monumenti anche per i non addetti ai lavori anche per i non addetti ai lavori assolutamente sì va bene allora andiamo a scoprire quali sono le visite guidate di Roma sotterranea di questo weekend allora domani abbiamo i sotterranei di San Martino e Monti a Colleoppio con degli ambienti molto particolari trasformati nel tempo nel tempo e che dovevano far parte di un di una struttura pubblica ve lo spiegheranno benissimo le nostre guide e comunque è un luogo che non molti conoscono è un luogo sotterraneo non molto conosciuto l'altro è un po' una piccola chicca dico io che è il colombario di Pomponio e questa è la visita invece di domenica domenica 6 che si trova a Porta Latina quindi fra l'altro c'è l'occasione di vedere la bellissima chiesa di San Giovanni a Porta Latina che è proprio lì di fronte e fra l'altro poi se sarà una bella giornata ma non si sa non sembra che sarà un'ottima giornata questo weekend domenica si sabato no però domenica allora io ho letto solo invece per domani e quindi c'è la possibilità a questo punto di fare anche una bellissima passeggiata perché comunque c'è questo parco all'interno del quale c'è questa piccola casetta questo piccolo edificio con una porticina in ferro e lì scenderemo all'interno di questo piccolo colombario quindi un edificio funerario piccolissimo privato di una famiglia appunto il cui capostipite era questo pomponio ilas che volle questo monumento e che è decorato con degli stucchi splendidi colorati e anche da pitture e mosaici benissimo allora Adriano non mi resta che salutarti perché noi ci rivediamo e ci risentiamo la settimana prossima perfetto con molto piacere grazie mille Adriano Morabito di Roma Sotterranea noi invece ci risentiamo lunedì perché Voglio Vivere Così torna la prossima settimana sempre alle 14.30 e dai Leonora Silvio un buonissimo pomeriggio e ricordate che questa è Radio Yes Voglio Vivere Così Voglio Vivere Così